Oggi la festa dei lavoratori, attenzione rivolta a diritti e doveri, ad economie e valori sociali, ma anche la sicurezza nello svolgimento di qualsiasi mansione. Mentre si attende il nome del candidato governatore del centrodestra alle regionali molisane di giugno, sul fronte opposto l'aspirante presidente Roberto Gravini inizia a delineare il suo percorso. La postazione 118 di Venafro da oggi è nuovamente omedico negli orari notturni, un risultato raggiunto sinergicamente da più istituzioni. Calcio, domenica 7 maggio, in Serie D si giochera l'ultima di campionato, intanto il vasto Girardi ha primeggiato sul Monte Giorgio, pari per il Termoli contro il Notaresco. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT. Oggi 1 maggio, giornata dal valore sociale e come ribadito dal presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il lavoro è un diritto, un dovere, dignità, il motore dell'economia, un'attività fondamentale per il cittadino, relazione sociale, progresso, crescita della società, un mezzo per esprimere liberamente la propria personalità. Avere un lavoro vuol dire essere liberi, compito dell'istituzione dunque e favorire l'occupazione. Ma il 1 maggio è anche occasione per richiamare l'attenzione alla sicurezza, alla lotta contro lo sfruttamento, compreso quello minorile, al lavoro nero per raggiungere pari condizioni, senza alcuna distinzione. Dialogo, ascolto e inclusività verso tutti i movimenti moderati e progressisti per il bene e il rilancio del Molise. Sono le prime dichiarazioni dell'avvocato Roberto Gravina, investito dall'intero centro-sinistra nel ruolo di candidato presidente della regione alle elezioni del 25 e 26 giugno prossimi. L'attuale primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina ha trovato il consenso unanime della coalizione di centro-sinistra alle elezioni regionali di fine giugno. L'essere stato ritenuto degno di una fiducia personale politica così ampia, ha dichiarato, mi rende ancora più consapevole di quanto sia importante il ruolo che sono stato chiamato a ricoprire e di quanto questo incarico debba oggi e dovrà in futuro essere improntato al dialogo e all'inclusività verso i movimenti dell'area moderata e progressista che si ritrovano nella linea di azione amministrativa che insieme dovremmo condurre. 45 anni avvocato civilista eletto nel Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina è ufficialmente il candidato presidente della giunta regionale nel centro-sinistra per le elezioni del 25-26 giugno. Dal 2019 riveste il ruolo di primo cittadino a Campobasso. L'accordo politico è arrivato dai vertici nazionali del PD e 5 Stelle per l'esperienza e la competenza amministrativa maturate negli anni con la fascia tricolore a Palazzo San Giorgio. A mettere nero su bianco sul nome del sindaco del capoluogo anche articolo 1 Molise Solidale, Volt sinistra italiana ed Europa verde. Gravina ha superato la concorrenza di Domenico Iannacone, giornalista originario di Torella del Sannio. Per la candidatura a governatore regionale Roberto Gravina dovrà lasciare ora la fascia tricolore al municipio di Campobasso ma, sottolinea, l'amministrazione a Palazzo San Giorgio continuerà a programmare e realizzare progetti per il bene della comunità. Il comune in ottime mani e non ci saranno stravolgimenti politici rispetto a quanto fatto fino ad adesso. Sembra complicarsi la vicenda delle surroghe. Le dimissioni dell'assessore Nicola Cavaliere di fatto hanno impedito l'ingresso di Massimiliano Scarabeo in Consiglio regionale. L'avvocato Vincenzo Iacovino annuncia una richiesta di risarcimento di un milione di euro. Le dimissioni da assessore di Nicola Cavaliere, che hanno impedito di fatto il reintegro di Massimiliano Scarabeo in Consiglio regionale, come stabilito dalla magistratura, non solo hanno prodotto tutta una serie di critiche dai cittadini e dagli osservatori politici, ma hanno spinto i legali dell'escluso a trovare una strada che conducesse ad un qualche riconoscimento per il proprio assistito. Nasce perciò da questo concetto la comunicazione dell'avvocato Vincenzo Iacovino della volontà di depositare in settimana un atto di citazione e una denuncia. In Regione, pur di non dar seguito alle sentenze della Cassazione e della Corte di Appello di Campobasso, fanno i magheggi, scrive il legale. Ovviamente le illegittime condotte già accertate dai giudici ora passeranno al vaglio della competente Procura della Repubblica e della Corte dei Conti, affinché valutino ogni eventuale condotta illecita ed ogni responsabilità penale e contabile. Chiederà per conto del suo assistito nell'atto di citazione un milione di euro di risarcimento danni, mentre denuncerà quelle persone che hanno interpretato ed applicato una legge regionale in una maniera che ha espropriato a quattro consiglieri di adiempere il proprio ruolo istituzionale, provocando un danno erariale e personale del quale dovranno rispondere facendo ricorso alle loro individuali risorse. Voltiamo pagina, sarà discusso l'8 giugno il ricorso in Cassazione per la revoca della custodia a cautelare in carcere di Irma Forte, la donna che la vigilia di Natale ha ucciso il marito, Carlo Giancola. Al momento e ai domiciliari in casa del fratello. Tutti i dettagli in questo servizio. L'8 giugno si discuterà in Cassazione il ricorso degli avvocati Demetrio Rivellino e Giuseppe De Rubertis in merito alla revoca della custodia cautelare in carcere di Irma Forte, la 68enne di Santa Maria del Molise che il 24 dicembre scorso ha ucciso il marito, Carlo Giancola, 72enne. Il Tribunale del Riesame infatti a seguito della ricostruzione della dinamica diversa da quella confessata dalla donna dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, Micaela Sapio, ha deciso che la signora Forte deve rimanere in carcere in attesa del processo. Il ricorso in Cassazione da parte dei legali difensori ha sospeso tale decisione e la donna è rimasta ai domiciliari in casa del fratello. Un omicidio efferato per il foro, un omicidio invece avvenuto a seguito di una situazione di conflitto con il marito che deriva da decenni per gli avvocati dell'omicida. Si attendono ancora i risultati dei rilievi dei RIS di Roma effettuati nell'appartamento di via 25 settembre, congiuntamente ai carabinieri del nucleo investigativo di Isernia. Invece è stata chiesta una proroga per i risultati dell'autopsia sul corpo del signor Giancola. La postazione 118 di Venafro dà oggi a nuovamente un medico negli orari notturni. Un risultato ottenuto grazie non solo all'amministrazione comunale ma anche alla delegazione parlamentare e al ministro della salute. Da oggi la postazione del 118 dell'ospedale Santissimo Rosario di Venafro avrà nuovamente un medico anche negli orari notturni. Ad annunciarlo il sindaco Alfredo Ricci. Un risultato raggiunto con un lavoro di squadra fatto a livello istituzionale, battendo i piedi e minacciando anche azioni giudiziarie. Un ringraziamento dovuto alla delegazione parlamentare, al senatore della porta e all'onorevole Lancellotta, nonché all'impegno diretto del ministro della salute. Il sindaco infatti aveva diffidato l'azienda sanitaria regionale, il presidente della regione, il commissario e subcommissario ad acta a revocare immediatamente la decisione di demedicalizzare il servizio emergenza urgenza del paese. Una questione di soldi quello della mancanza di dottori, denaro per garantire ai medici del 118 un compenso decente per l'attività aggiuntiva. Una difficoltà che sarebbe stata risolta in breve tempo, ma che il comune di Venafro avrebbe voluto accollarsi facendosi carico della spesa necessaria per garantire anche di notte a servizio di emergenza urgenza la presenza di un medico. Ovviamente poiché l'ente non è competente in materia e quindi non può pagare con risorse di bilancio, il relativo costo sarebbe stato sostenuto con le indennità di sindaco e assessori. Giovedì 11 maggio dalle ore 18 nella sala consigliare del comune di Tufara il convegno dal titolo il consorzio cooperativa elementare di sviluppo nelle aree interne del fortore molisano, campano pugliese contro lo spopolamento e la fuga di giovani dai paesi di origine. Anche per l'anno scolastico 2023-2024 i tagli alle scuole molisane determineranno un organico inadeguato. La Confederazione Generale del Lavoro chiede sia all'ufficio scolastico regionale ma anche alla politica di adoperarsi per l'attribuzione di deroghe che compensino i tagli del personale. anche per l'anno scolastico 2023-2024 i tagli alle scuole molisane determineranno un organico inadeguato e quanto dichiarato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro. L'ufficio scolastico regionale del Molise ha infatti comunicato alle organizzazioni sindacali gli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario delle scuole molisane per il prossimo anno. ulteriori cinque impieghi sono stati tagliati al Molise, due assistenti amministrativi e tre collaboratori scolastici. Un trend assolutamente negativo che non può essere addebitato solo al calo degli iscritti. Nel Molise riporta la nota della CGL si tratta di una perdita continua. Dal 2009 ad oggi in totale per il solo personale ATA ci sono 551 posti in meno nelle scuole, quasi un terzo dell'organico complessivo. È urgente fare un discorso di espansione e di incremento degli impieghi attuali, anche a fronte di un decremento nel numero degli alunni. Il carico di lavoro del personale amministrativo è infatti in costante crescita nelle scuole, sia per le esigenze connesse all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sia per tutte le altre numerose incombenze che non sono affatto diminuite. È assolutamente necessario pertanto, continua la nota, ad operarsi da subito per prevedere l'attribuzione di deroghe che compensino i tagli di personale. Migliaia di persone hanno assistito a San Martino in Pensilis al trionfo del carro dei giovanotti nella Carrese 2023 in onore di San Leo su un percorso di circa 8 chilometri. I giallorossi hanno così bissato senza grossi patemi il successo dello scorso anno. Al secondo posto sono arrivati i giovani e al terzo i giovanissimi. Le prossime corse con i buoi sono previste il 3 maggio ad Ururia e lunedì dopo la Pentecoste a Porto Cannone, comunità queste ultime di origini albanese. Uno spazio verde è nato in via Pascoli a Termoli con annesso campo per la pratica delle bocce. È un'area che torna a vivere con l'impegno di ulteriori miglioramenti in futuro. Un nuovo luogo di aggregazione sociale che faccia uscire dall'isolamento interno un quartiere come Colle della Torre che da zona residenziale di pregio ha subito negli anni la legge del contrapasso nell'abbandono come più volte messo in evidenza dai residenti. Ora si inverte la rotta con l'inaugurazione del nuovo parchetto di via Pascoli, cuore della zona di Termoli Nord, i residenti con famiglie e alcuni bimbi non hanno voluto mancare a questo appuntamento che ha rivitalizzato una contrada che per molti anni era stata considerata un degrado. Il parco con campo da bocce è stato un segnale di attenzione ma occorre fare di più nelle parole dell'assessore ai lavori pubblici Enzo Ferrazano ed è lo stesso primo cittadino che è stato delineato anche il cronoprogramma dei futuri interventi della realizzazione dei marciapiedi a completamento delle rete fognarie e delle realizzazioni di un manto d'asfalto per la strada di PRG fino alla costruzione della nuova scuola d'infanzia attraverso l'utilizzo dei fondi del PNR. Valorizzare tutte le aree verdi che abbiamo sul territorio, che ne sono tante, andiamo a costruire questi piccoli parchetti per consentire ai fruitori della zona dei momenti di riposo, dei momenti di aggregazione e quindi stiamo procedendo attraverso una serie di opere a mettere in piedi quello che era il programma elettorale. C'è ancora tanto da realizzare perché l'hai già detto, due anni fermi che purtroppo ci hanno rallentati ma le opere che noi avevamo previsto sono già tutte candierabili, quindi ora è solo questione di arrivare alle gare d'appalto, anche i fondi dei PNRR, noi abbiamo partecipato a tutti i fondi, siamo stati assegnatari di molte risorse, di milioni di euro, quindi ora con buon padre di famiglia bisogna andare presto a candierare queste opere. Si è concluso all'istituto scolastico Alfano di Termoli il progetto Scacchi a scuola, 20 gli alunni partecipanti a lezioni e tornei. Nella competizione esperti ha primeggiato Giuseppe Casolino della seconda del liceo scientifico, vincitore nella categoria principianti invece Antonio Aprile della quinta B del liceo classico. E spazio ora alle previsioni del tempo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, pvc e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. Gruppo Zulli dal 1975 con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Zulli ceramiche a Città Sant'Angelo e nei pressi di Mondo Convenienza. Aperti tutti i giorni, compresa la domenica. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Mal tempo oggi in Molise ed Abruzzo. In Molise, temperature comprese tra gli 11 gradi di Campobasso e i 17 gradi di Sernia. In Abruzzo, tra la minima di 11 gradi all'Aquila e la massima di 16 gradi a Pescara. Venti moderati provenienti da sud-est. Poco mosso il medio adriatico. Ancora precipitazioni piovose con valori climatici minimi in rialzo domani sulle due regioni. T.L.T. in rete. Vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. Risultati, contributi dai campi e interviste ai protagonisti. T.L.T. in rete. Ogni domenica, dopo le 22.00 e in replica il lunedì alle 15.30. Domenica a 7 maggio, ultima di campionato in Serie D, deciderà le sorti in testa e nella coda della classifica. Nel penultimo turno vince il Bastogirardi, mentre il Termoli deve accontentarsi ancora di un pari. Le grafiche della 33esima giornata. Al-Maafano Chieti 1-0, Avezzano Trastevere 1-2, Termoli Notarisco 0-0, Matese Cinzial Balonga 1-1, Portodascoli Tolentino 1-2, Roma City Pineto 0-0, Vastese Team Nuova Florida 1-0, Vasto Girardi Montegiorgio 2-0, Vigor Senigalli a San Benedettese 5-2. Pineto 69 punti, Vigor Senigalli a 67, Trastevere 61, Alma Fano 57, Cinzial Balonga 49, Matese 47, Portodascoli 44, San Benedettese e Chieti a 43 punti, Vasto Girardi e Team Nuova Florida 42, Avezzano 40, Roma City 37, Vastese 36, Termoli e Notarisco. A 31 punti, Montegiorgio e Tolentino chiudono a 28. Non senza difficoltà, il Vasto Girardi risolve la pratica casalinga contro il Montegiorgio ed ottiene la salvezza diretta con un turno di anticipo. Ernandez e Macheni consegnano al Vasto Girardi la salvezza diretta ad una giornata dal termine delle ostilità nell'impianto amico del Filippo Di Tella, in uno scontro vitale anche per le sorti della formazione viaggiante. Il Montegiorgio alla ricerca disperata di punti, Pioggia e Nebbia accolgono i 22 in campo, Hernandez al primo assalto recupera palla, salta la difesa ospite e infila una sassata lì dove Forconesi non può arrivare. I gialloblu la sbloccano dopo solo tre giri di lancette. I marchigiani di Roberto Bacci si rimettono in sesto e si fanno preferire al minuto 28 allorquando Tencorang arriva con una frazione di secondo in ritardo su un perfetto invito dinanzi all'estremo di casa Petriccione. Gli ospiti si rifanno sotto prima di tornare negli spogliatoi, troppo poco dall'angolo per impensierire però Ruggeri e compagni. Dopo un inizio di ripresa in gestione i Molinsani ripartono dal basso, Calemme riceve palla, si lancia in avanti e offre la sfera a fiori, stoccata forte ma centrale su Forconesi, pronto nella respinta. La rete della sicurezza arriva su una invenzione di Hernandez il quale apre sul fianco mancino per il centroavanti McNeil che non sbaglia e sigla il raddoppio a metà secondo tempo. E' l'ultimo atto di una partita vibrante che il vasto Girardi, mai domo, riesce a condurre in porto per certificare la venuta a salvezza dinanzi ai propri tifosi. Il termo li cozza contro le barricate del notaresco ed è costretto a dividere la posta in palio al Cannarsa con gli abruzzesi. La griglia play-out della Serie D è rimandata all'ultima giornata di campionato. Partita carica di tensione decisiva per le due squadre che sono al terzo-ultimo posto a quota 30 con il rischio di retrocessione diretta e play-out con le stesse percentuali. Con tanta paura di sbagliare tra Termoli e Notaresca è finita con un nulla di fatto. La cronaca. Subito al quarto, Shibia ci prova in aria giallorossa ma il suo tap-in non è vincente. Risponde il Termoli al decimo con il rientrante Elwazi che nell'aria piccola si trova tra i piedi un ottimo pallone ma al momento del tiro si incarta e sfuma l'occasione ghiotta. Al sedicesimo gli ospiti vicinissimi al gol penetrano un ottimo pallone in aria giallorossa per i piedi di Romano il quale tira a botta sicura ma Lombardo si supera e compie una parata che vale un gol ed evita così la capitolazione dei suoi. Al ventesimo ci riprova ancora Elwazi per il Termoli, pallone invitantissimo ma la punta termolese al momento del tiro non riesce a calciare come voleva e il portiere ospite ringrazia e parla a terra. Ventiquattresimo Corcione ci prova dalla distanza ma il portiere ospite attentissimo parla a terra senza problemi. Arriviamo al quarantatresimo però è ancora un super Lombardo a salvare l'incolumilità della propria porta compiendo un altro miracolo sempre negando la gioia del gol a Romano molto insidioso. La ripresa vede partire i giallorossi con più convinzione al terzo Corcione autore di un'ottima prestazione tira fuori ma non ci mette la forza necessaria per impensierire il portiere ospite. Al quinto con Elwazi ancora lui colpisce bene di testa forse anche con la mano del portiere e la palla si stampa sulla traversa Termoli quindi vicino al gol. Siamo adesso al ventinovesimo Cagliazza tira da fuori aria Siba il portiere ospite stava per commettere uno svarione ma lui stesso però rimedia in qualche modo. E siamo adesso al quarantesimo della ripresa il Termoli stava per compiere una bella frittata. Il notaresco mette un pallone verso l'aria giallorossa che sorprende un po' i difensori del Termoli. Lombardo il portiere che parte leggermente in ritardo cerca la deviazione al limite dell'aria con i pugni ma invece del pallone colpisce un avversario che stramazza al suolo con una ferita al volto. Inevitabile il cartellino rosso per il numero uno termolese e Termoli che rimane in dieci con l'esordio di Recchi al secondo portiere che prende il posto del Balde che era da pochissimo entrato in campo. Al cinquantesimo al quinto minuto dei cinque di recupero il Termoli che sfiora il colpaccio con un contropiede importante. Al momento di concludere però il giocatore giallorosso non ha avuto la forza per mettere la palla in rete. Finisce così con un'altra delusione per i tanti tifosi giallorossi ma anche per i tanti giunti da notaresco. Per il nuovo allenatore Martino che fa bene ancora a crederci sicuramente si aspettava un esordio migliore sulla panchina del Termoli Calcio. Nei campionati di calcio di eccellenza e promozione si è giocata la penultima giornata. Campobasso e Zernia sempre separati da soli due punti a 90 minuti dal termine della stagione regolare. Sesto Campano Polisportiva Gambatesa 3 a 0. Aurora Alto Casertano Venafro 6 a 0. Aurora Aururi Castel di Sangro 0 a 3. Boiano Limpia Agnonese 1 a 0. Campobasso Campo di Pietra 19 a 0. Campomarino Pietra Monte Corvino 5 a 1. Isernia San Leucio Turris 4 ad 1. Campobasso 81 punti. Isernia 79. Aurora Alto Casertano 68. Sesto Campano 52. Campomarino 49. Boiano 48. Turris 47. Venafro a 42 punti. Guglionesi Olimpia Agnonese 41. Castel di Sangro 31. Pietra Monte Corvino 30. Virtus Gioiese 28. Aurora Aururi 20. Gambatesa 11. Campo di Pietra meno 3. Fortore Altilia Samnium 16 a 1. Baranello Spinete 2 a 3. Bois Vairano Petacciato 6 a 0. Montenero Juvenes Campobasso 2 a 0. Cliternina Esernia Fraterna 0 a 1. Don Chissagnone Trivento 2 a 0. Roccaravindola Ripali Mosani 2 a 5. Termoli 2016 Atletico San Pietrinvalle 2 a 0. Fortore 73 punti. Atletico San Pietrinvalle 63. Ripali Mosani 62. Termoli 2016 61 punti. Esernia Fraterna e Spinete a 53. Vairano 45. Juvenes 44. Roccaravindola 41 punti. Cliternina 36. Baranello 34. Don Chissagnone 32. Trivento 25. Montenero 21. Petacciato 11. Altilia Samnium chiude con 4 punti. Poco più di un allenamento per il Campobasso che passeggia sui resti del Campodipietra, fanalino di coda del torneo di eccellenza. Tra il rosso-blu e l'isernia si deciderà tutto solo domenica 7, l'ultima di campionato. Dalla Selva Piana è la 29esima giornata, la penultima e l'ultima. Fra le mura amiche del nostro stadio si affrontano Campobasso e Campodipietra. Poi c'è il gol di Ripa, attenzione immediatamente. Il gol di Ripa. Verde il pallone. Poi per Filannino che riparte da Garofali. sbaglia il tocco all'estremo difensore. Fazio, il mancino di Fazio. 2 a 0. È buono il pallone per Franchi. Attenzione, Franchi prende il tempo all'estremo difensore. Franchi tutto regolare. Franchi a porta vuota. 3 a 0. Intanto Ripa fa 4 a 0. Il calcio di punizione. Poi Franchi si inserisce. Franchi, pallone per Lombari in area di rigore. Lombari, il destro di Lombari. Il gol di Andrea Lombari. Franchi si accentra all'1-2 con Ciccio Ripa. Bello ancora Franchi col piattone. Il gol di Franchi. Prova ad andare da solo. Allora Tordella. Tordella in area di rigore. Tordella col piattone. Tordella. Poi Franchi ancora l'incursione del centrocampista. La testa di Ripa. Tripletta di Ciccio Ripa. Di Leo. Prova ad entrare. Di Leo in area di rigore. Buono il pallone per Ripa. 9 a 0. Ripa. Può andare Ripa col mancino. Esce a vuoto Garofalo. Ancora Ripa in area di rigore. Palla per Lombari. Porta sguarnita. Lombari prova la conclusione. Andrea Lombari. È bello il pallone per Franchi. Tutto regolare. Ancora Franchi in area di rigore. Cerca il tocco per Ripa. Arriva Ciccio Ripa. Tordella. Tordella. Vede il movimento di Franchi. Ancora Franchi con la testa Garofali. Poi Ciccio Ripa in pallonetto. La rete del campo basso. Guillari. La verticalizzazione. Lo scarico di Ripa. Poi Anastasia. La conclusione di Anastasia. E la rete di Mattia Anastasia. Palla per Franchi. Siamo in area di rigore. Pallone dentro. Rinviato però. Guillari. Tenta l'acrobazia. Guillari. Che gol. Manuel Guillari. Albebi centrocampista. Che se ne va. Ancora Anastasia. Il tocco per Ripa. È tutto regolare. Ripa uno contro uno. Ciccio Ripa. Ancora Ripa. Salta il portiere. E infila il 15 a 0. Ciccio Ripa. Ancora Ciccio Ripa. Sul primo palo allontana però di testa la retroguardia del campo di pietra. Anche se si resta lì. Ancora Ripa. Franchi. Pallone in alto. Ciccio Ripa. Anche il gol. In acrobazia di Ciccio Ripa. Se la trova un po' indietro. Poi riesce comunque a metterla dentro. Allontana però Filannino. Tordella può provare la conclusione. A girare. Tordella. Che gol di Tordella. Franchi. L'1-2 di Franchi. Si appoggia centralmente da Guillari. Che chiude la triangolazione con l'esterno del piede. Franchi. Pallone per Traoré. Il gol di Axel Traoré. Finisce qui. La 29esima giornata. Tra Campobasso e Campo di pietra. E' 19 a 0. Noi siamo in Campobasso. Noi siamo in Campobasso. Noi siamo in Campobasso. Nel calcio a 5 nazionale. Il Cusmolise deve arrendersi 6 a 3 a Venezia. Nell'andata del primo turno. Playoff per l'accesso alla Serie A2 Elite. Sabato 6 maggio al Pala Unimol di Campobasso nella gara di ritorno. Il rosso-blu del tecnico Marco Sanginario servirà a una vittoria con 4 gol di scarto per salire nella categoria superiore. Nel campionato under 19 di pallacanestro maschile per l'NBC Campobasso complice la rinuncia del Torre Spess. E' arrivata una vittoria a tavolino con la prospettiva dei due recuperi in settimana contro il Mosciano e il Chiedi per provare a tenere il primato in classifica. Infine l'under 15 maschile della cestistica Campobasso si impone senza patemi. 70-42 sul basket centro Abruzzo di Sulmona. E con questo è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS